ora vi porto a fare una passeggiata virtuale sui mitrulli paterni salendo le scalette eccoli ogni trullo corrisponde ad una stanza come vedete ce ne sono tanti era una famiglia numerosa quella di miei nonni ogni stanza un trullo qual è la collina che spalleggia questa valle e oltre la collina abbiamo l'estensione verso la valle di itria la corotondo stuni fasano e si al mare i trulli sono tantissimi perché questa era un'abitazione in cui mio padre e i miei zii sono cresciuti e vissuti per tanti anni sin dall'epoca della guerra i trulli più piccoli corrispondono alle cucine ecco un po' pericoloso però è fantastico guardate che spettacolo si gode da qui come non amare questi posti mi ricordano la mia infanzia ma i miei genitori vivono qui quindi hanno scelto diciamo la via più bella per godersi gli ultimi anni della loro vita io da bambina mi divertivo a giocare con i miei fratelli qui sui trulli era uno spazio vi auguro una buona giornata guardate il mare oltre i trulli quanto è bello